Musica E' la terza sparatoria nella provincia di Bari, in poco meno di 48 ore, quella avvenuta intorno a mezzogiorno di oggi a Bitonto, vittima dell'agguato è il 28enne Vito Di Cataldo, pregiudicato conosciuto nell'ambiente malavitoso con il soprannome di Le Pecore. Il giovane è stato sparato ad una gamba mentre si trovava in via Berlinguer, zona notoriamente interessata dallo spaccio di droga. I colpi di pistola lo hanno raggiunto ad un polpaccio. Il ferito è stato trasportato presso l'ospedale del quartiere San Paolo di Bari, intervenuti sul posto della gambizzazione, polizia ed i carabinieri della locale stazione che indagano sull'accaduto. Grazie. Grazie.